Spero proprio di sì, non siamo del posto, dobbiamo rientrare. Gravina in Puglia. Una giornata lavorativa, adesso ci troviamo qua. Adesso sto leggendo proprio il programma, almeno per stasera. Diciamo che il programma è vastissimo, è una cosa grandissima. Già vedere tutto ciò che sta. È una cosa bellissima, sì, sì. Sì, siamo del posto, ma anche per un fatto di orari. Infatti, traffico e via dicendo. Siamo in fuga. Noi veniamo da Roma, ma io sono di Brindisi, loro siamo di vari posti. Io non credo che ha 50 anni che manco dalla Puglia. Io sono di Brindisi, però sono andato fuori per lavoro e ora sto tornando a ritrovare. Trovo tutto molto cambiato, migliorato direi. Speriamo, sì, sì, speriamo di farcela.